Eminenza! Come l'ha trovata la Bonino? Benissimo! Posso avvicinarmi? Ennesima escursione del Cardinale Bergoglio, che lo scorso 5 novembre è andato a trovare Emma Bonino, dimessa da pochi giorni dall'ospedale per una crisi respiratoria. Già altre volte Bergoglio aveva incontrato la Bonino e anche in passato non sono mancati elogi alla sua persona e al suo operato. Nel 2016 l'ha incluse tra i grandi dell'Italia di oggi. Molti cattolici sono rimasti sorpresi, per non dir di peggio, nel vedere gli elogi a una sostenitrice convinta di aborto, eutanasia, fecondazione artificiale, divorzio, omosessualità ecc. La libertà della Bonino lodata da Bergoglio è la libertà della donna di uccidere il figlio con l'aborto. Certamente, è positivo stare accanto ai sofferenti e a maggior ragione se soffrono la lontananza da Dio. Ma per un cattolico sarebbe doveroso accompagnare ai gesti di vicinanza gesti di evangelizzazione o almeno evitare di scandalizzare i piccoli nella fede, i quali potrebbero credere che la visita alla Bonino è anche una benedizione apostolica a tutto il suo operato. Padre, sono di Repubblica, posso? Padre, sono di Repubblica, posso? Sì, sono di Repubblica. Sì, sono di Repubblica.